Chieti guarda l'estate. Con la flessione dei contagi e la progressione della campagna vaccinale, il Comune pensa a come rianimare il capoluogo tetino nei mesi più caldi dell'anno. La prima novità dell'estate 2021 sarà il ritorno del mercato dell'antiquariato su Corso Marrucino, la via principale della città. Stiamo cercando di riportare per il mese di luglio anche il mercato dell'antiquariato su Corso Marrucino, un modo per dare ulteriore movimento, per incentivare le persone a venire in città e poi insieme al nostro sindaco e anche al nostro vice sindaco con Delega alla Cultura di Cesare stiamo ragionando a tutta una serie di eventi per favorire appunto la partecipazione alla vita cittadina, soprattutto con la cingersi dell'estate perché questa città deve vivere anche nel periodo estivo e soprattutto deve tornare post lockdown ad avere un rinnovato entusiasmo. Insomma Chieti ripartirà dal commercio. Oltre al mercato prosegue l'iniziativa Compra Tiatino tramite cui l'amministrazione intende incentivare gli acquisti a vantaggio dei piccoli e medi commercianti locali. Compra Tiatino con il quale nel prossimo mese andremo a creare una vera e propria carta dei servizi del commercio cittadino che darà la possibilità a quelle attività che vi aderiranno di garantire alla clientela tutta una serie di servizi aggiuntivi e anche di sconti progressivi agli acquisti che vengono effettuati. È un modo per riavvicinare l'utenza agli esercizi commerciali della città. Grazie. Grazie.